Mi fa sempre un po' effetto quando vengo definita padrona di casa di questo luogo, in realtà tutti siamo padroni di casa di questo luogo. Io credo che non possa esserci davvero un luogo migliore per celebrare questo inizio e di questo voglio ringraziare CSMT per la lungimiranza di sceglierci come luogo iniziale perché questo credo valorizzi appieno da un lato l'idea dell'eredità culturale di una città come fattore decisivo e imprescindibile dello sviluppo e dell'innovazione. Voi sapete l'eredità culturale come definita dalla Convenzione di Faro e questo insieme di risorse, sia pubbliche che private, a chiunque appartengono, in cui la città, quella città annette, la comunità di appartenenza annette valore, risorse che vengono dal passato e sono questo serbatoio immenso di capacità, di risorse che guardano al futuro. Io credo che l'innovazione si pone in modo necessariamente dialettico con un'eredità come questa, nel senso che non c'è innovazione se non rispetto a qualcosa che deve essere superato, ma non c'è nemmeno innovazione che non affondi le radici in un bacino che qui noi conserviamo. E quindi queste risorse che sono beni materiali come quello in cui siamo, ma anche beni materiali che appartengono a tutta la città, di cui noi, che noi parzialmente, noi che gestiamo i musei della città che studiamo, davvero possono essere un fattore decisivo per lo sviluppo e l'innovazione della nostra città e in questo senso credo che la trasformazione della consapevolezza della nostra città, sempre più forte come città, anche capitale, culturale, abbia un ruolo decisivo nel definire lo sviluppo che abbiamo davanti. Ma sono grata della scelta di questo luogo anche perché intercetta pienamente il lavoro che noi di Brescia Musei stiamo ovviamente in alleanza col Comune e stiamo tentando di fare, che è quello di accreditare sempre di più l'idea dei musei come luoghi che non sono solo i luoghi della conservazione del patrimonio del passato e nemmeno i luoghi della fruizione di questo patrimonio. Noi vogliamo fare un passo in più, lo stiamo proponendo anche come modello in Italia, cioè il museo, soprattutto quando è un museo civico che sta al cuore della vita della città, come luogo della partecipazione attiva, il luogo dove il nostro patrimonio viene messo a disposizione di tutta la città e quindi diventa un centro di alleanze. Noi stiamo costruendo in modo molto determinato e consapevole le alleanze con la città, con le istituzioni culturali ma anche con le rappresentanze del mondo imprenditoriale, con tutte le istituzioni possibili perché il museo è un luogo che accoglie la città ed è anche un luogo che deve uscire da se stesso per andare in conto alle esigenze della città e diventare un momento di costruzione insieme alla città. Questo nostro patrimonio che noi costudiamo è a disposizione di tutti. Quindi grazie mille per essere qui oggi, credo che davvero sia la manifestazione migliore di quello che noi stiamo cercando di fare ma anche di come la città recepisce il lavoro che noi abbiamo fatto. Grazie.